Ripresa graduale per la Sidigas Scandonio Avellino. Nel corso del fine settimana sono rientrati in Irpinia alcuni dei giocatori del roster di coach Stefano Sacripanti. Ci sono gli americani e gli italiani Andrea Zerini e Lorenzo D'Ercole, tutti rientrati alla base dopo una settimana di completo riposo. La Sidigas, dopo il tour de force di questo novembre, aveva assoluto bisogno di un break. La ripresa è però a ranghi ridotti. Soltanto nella giornata di domani arriveranno Salvatore Parlato e Amadindiaie, che hanno trascorso l'intera settimana passata a Brescia per sottoporri a cure specifiche alla schiena. Ieri ha giocato Ariel Figoe con lo nazionale e l'Azzurro tornerà appena possibile. Il club potrebbe decidere di dare qualche giorno di relax al giocatore, che si è messo in questi giorni al servizio di Azzurra. L'ultimo, ad aggregarsi alla rosa bianco-verde, sarà Thomas Crubb, anche lui impegnato con la nazionale per le qualificazioni mondiali. Nel gruppo oggi dovrebbe rientrare Chirilo Fesenco, che ha bisogno di ritrovare la squadra per riprendere feeling con il basket giocato e con i compagni. Sabato arriva Venezia, un match che non ha bisogno di particolari motivazioni.